questo programma è offerto da se hai un frigo che non funziona ti prego non rischiare vieni da noi a farlo cambiare da specialisti e con rapidità frigoriferi da incasso forni da incasso piani di cottura e travelli di tutti i colori lavastoviglie da incasso fba di bruno corso potenza 183 torino se hai un frigo che non funziona vieni da noi a farlo cambiare eccoci qua torna che a fionda eccoci non da 9 minuti dopo le 23 io devo abbassare un attimo il microfono eccoci qua adesso va decisamente meglio benvenuti al post show di tuttoresti.com web radio di tuttoresti.com per parlare di quello che è successo nella notte tra pomedì e martedì con monnetro e nella giornata di ieri nella nottata di ieri tra ieri e oggi con smackdown live sono intanto collegato con moreno berlasconi buonasera moreno un attimo che vediamo se il collegamento a posto no non è a posto devo 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 un attimo devo un attimo correggere il collegamento perché purtroppo non non arrivi in in diffusione eccoci qua buonasera da parte mia adesso no non ti non ti si vede ancora vi pazienza dammi solo dammi solo un secondino di tempo che sistemo sistemo la schermata di discord più che altro comunque saluta il pubblico saluta i tuoi fan ammesso che ci siano buonasera moreno buonasera moreno come 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 butta se a moreno ci da una da due puntate di show settimanali wwe discutibili da mio modestissimo modestissimo punto di vista vai io voglio aspettare una lancia a favore di angle sì perché come mi ha fatto ridere lui in questi giorni non mi ha fatto ridere nessuno perché ti ha fatto ridere da fatto ridere angle di grazia over acting sentiremo poi sentiremo poi sentiremo poi dopo più che altro e vabbè dai doveva vendere la storyline salutiamo salutiamo anche salutiamo ecco qua l'altra persona collegata con noi stasera don cia castoro ovvero marta paolino che ieri che prima aveva un'espressione quando mostrava con orgoglio i dolcetti presi ad halloween abbastanza emblematica buonasera buonasera no veramente questi me li hanno portati io ad un non l'ho festeggiato sono contro queste feste consumiste sì mi stanno sul cazzo cosa sta indossando uno slanket cos'è quella roba lì no questa è questa è la mia copertina ma che che tristezza la copertina di johnsine che doppia tristezza aggiungerei anche poi parleremo dopo del natale più che altro perché c'è un segmento nella puntata di ro che ha visto protagonisti babbo natale e mamma natale più che altro moreno moreno ha già capito più che altro dove andremo dai come 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 giusta aspetta 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 come giustamente detto su pdb insider meritano un aumento i due che hanno i quattro anzi protagonisti di questo segmento buona ribonasera marta paolino che vabbè vestite in questo modo che definire agghiacciante fargli un complimento ma d'altra parte e sono anche le 11 di sera quindi anche comprensibile diciamo la tenuta la tenuta la tenuta notturna esattamente come scusa io stavo già dormendo due ore considerate stavi già dormendo da due da due ore diciamo addirittura vabbè 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 no vabbè dobbiamo vai scusa perché noi eric dobbiamo prepararci a luca comics quindi dobbiamo dormire prego la cosa la la cosa semmai vale vale per voi più 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 che altro non tanto non tanto perché andate voi più che altro al al luca comics andremo a luca comics quindi dobbiamo dormire prima esattamente esattamente ma approfitto ma approfitto della presenza di marta paolino perché dobbiamo dobbiamo diciamo impostare un argomento importante per quanto riguarda la puntata di questa sera abbiamo anche un sottofondo adeguato no no che non è partito un attimo solo che lo faccio che lo faccio ripartire eccoci qua eccolo qua dicevamo un sottofondo adeguato alla cosa perché questo sottofondo triste che potete sentire tra l'altro anche in sottofondo e per parlare dell'eliminazione di vicky bella da dancing with the stars approfitto della presenza più che altro di marta per impostare l'argomento come potete sentire musica 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 triste musica diciamo musica io sono sempre stata oggettiva una roba guarda una roba guarda la scorsa settimana avevo ballato bene questa settimana ha ballato oggettivamente di merda il problema più che altro è che pare stando almeno a voci che sono aggiunte dallo show è che appunto nicky bella non fosse diciamo messa molto bene dal punto di vista del televoto la prima settimana che ha fatto un punteggio nettamente più basso rispetto agli altri diciamo che ne ha pagato le conseguenze e infatti è terminato secondo me i televoti nelle trasmissioni del genere non dovrebbero essere ma perché ma per quale motivo ma ti spiego ma lei lo dice solo perché hanno eliminato la sua preferita e perché non poteva votare più che altro per lei alla fin fine no 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 non in 5 minuti non abbiamo 5 minuti questa cagata in 2 in 2 a 40 secondi si muova io vedevo amici vedevo Leonardo Fumarola mi piaceva un sacco se ne vanti aggiungerei anche ma andiamo avanti però non ho mai avuto il banto di sapere cosa fosse la danza quindi io non potevo giudicare e non che adesso diciamo che le cose siano molto migliorate ma andiamo avanti sì appunto io non posso avere l'onere di giudicare una persona che fa danza no ok però se una persona scusa però permettimi se una persona fa 3 giravolte e su 2 vola in terra non è che ci voglia molto da diciamo a livello di conoscenza della danza per interpretare no non è successo non è successo preciso è un esempio drastico un esempio esagerato è come se mi mettessi a votare cioè è come se un inesperto di cucina si mettesse a votare qualcosa di cucina scusi mi permetta dottoressa Paulino lei vota per le elezioni politiche? sì e allora dov'è la differenza? cioè secondo lei l'80% della popolazione è in grado di votare per le elezioni politiche a prescindere? e allora dov'è il problema? ma quello è estremizzato sì è estremizzato è estremizzato però diciamo è un esempio di competenza che possiamo ma non è un esempio lampante Eric Sofia beh insomma un conte è votare chi vince lei è stata sui social negli ultimi anni più che altro per vedere quello che dice la gente in generale sui social ecco appunto vabbè cambiamo argomento che è meglio si è fatta anche la treccina come Nicky Bella che tristezza no ma che treccina c'ho la coda eh vabbè coda treccina quello che è allora stavo facendo un pochettino la cernita più che altro dei personaggi che abitualmente abitano questo cosa sta leggendo scusi cosa sta leggendo si leggono libri non ma che treccino che libro è tra l'altro cos'è? è il libro di Shuburra ah vabbè almeno è un buon libro dai almeno è un buon libro no dicevo la cerita di questo programma questa sera è così composta siamo in tre in tutto mi pare di capire perché Marta è collegata con noi Fabio non alberga in questa trasmissione da 50 anni ormai Giovanni mi ha detto che è in giro Mattia anche è in giro a Lucca dopo una giornata di tra virgolette lavoro no scherzo a parte giornata di lavoro effettivamente a Lucca domani sarà giornata di cazzeggio mi pare per quanto riguarda il che ci porta a un dilemma per il caffè ma quello è un altro discorso perché comunque con il caffè sarebbe effettivamente abbastanza complicato trovarci tutti quanti ma quello è un altro anche perché per me sarà un problema non da poco esatto no il problema sarà il problema sarà trovarci tutti quanti il garante venerdì pomeriggio c'è come scusi? il garante venerdì pomeriggio c'è però il garante è ininfluente il garante infatti non viene ai microfoni quindi comunque non è una cosa che influisce poi sul programma comunque vabbè un modo lo troveremo più che altro di registrare a domenica a domenica potremmo registrare sul tardo pomeriggio al limite però non prima probabilmente io non ho breve perché fortunatamente Casale gioca in trasferta però dovremo al limite registrare poi sul tardo pomeriggio eventualmente comunque vabbè ne parleremo poi eventualmente a tempo debito ma apriamo il discorso su queste puntate di Raw e di SmackDown che ci siamo lasciate alle spalle le prime due ore di Raw sono state accettabili la terza ora è stata assolutamente terribile dal mio punto di vista infatti è crollata anche dal punto di vista degli ascolti ma credo che fosse quello l'effetto voluto da parte della WWE perché comunque credo che loro puntassero a questo crollo basandomi più che altro su quello che hanno bucato poi nella terza ora però non sono poi così convinto che l'intenzione della compagnia non fosse quella effettivamente di fatto comunque abbiamo avuto una terza ora che è andata molto male a punto di vista degli ascolti ha avuto un calo molto molto simile a quello che è successo la settimana scorsa per essere precisi la puntata di Raw di lunedì sera ha fatto in totale di più credo rispetto alla settimana scorsa in totale ha fatto 2 milioni e 9 se non ricordo male però il dato di ascolto o forse ha fatto 2 milioni e 8 adesso non ricordo vado un attimo a prendere i dati di ascolto vado un attimo a prendere i dati di ascolto della puntata di lunedì eccoci qua allora puntata di Raw di lunedì ha fatto 2 milioni e 854 in calo rispetto a 2 milioni e 953 della settimana scorsa 3 milioni e 102 milioni alla prima ora 2 milioni e 9,43 la seconda 2 milioni e 5,17 la terza è andata abbastata similmente a quello che è successo la settimana scorsa con 3 milioni e 3,32 la prima ora la settimana scorsa 2 milioni e 9,69 e 2 milioni e mezzo 2 milioni e 5,57 poi la terza ora quindi il calo è stato effettivamente costante è stato forse anzi più rumoroso il calo della settimana scorsa più che altro perché si partiva da una base più alta 3 milioni e 3 contro 2 milioni e 5,57 questa settimana si partiva da 3 milioni e 102 mila di certo di certo più che altro questa settimana fatta eccezione per l'angle del ritorno di Braun Strowman la terza ora mi sembra che sia stata fatta in modo con l'intenzione praticamente di non rendere la terza ora assolutamente importante perché la terza ora abbiamo avuto quell'orribile match con Gallo Sanderson travestiti da The Chet2Bed e Sex Ferguson contro Isleta e Rhino concetti da Babbi Natale con due mesi in anticipo abbiamo avuto il match femminile e dovremmo poi parlare più tardi della nuova meravigliosa finisher di Alexa Bliss poi cosa abbiamo avuto non mi ricordo più che cosa abbiamo avuto è stata una terza ora abbastanza scarsa non parlate in due non parlate in due Moreno dicevo per me il pubblico ha anche un po' mangiato la foglia riguardo alla terza ora più che altro la settimana scorsa hai fatto anche il grande angolo alla fine però comunque ormai avevi fatto settimane con Enzo Amore e peraltro non promuovendo nulla per la terza ora in tutte le puntate a parte appunto i cruiser e quindi la gente ormai mi sa che non si è anche abbastanza abituata a chiudere alle 10 esatto esattamente quello che hai detto dicevi Marta? no a parte Strowman, Alexa Bliss e quel meraviglioso tag team match c'è stata la fuga di The Miz durante basta poi c'è stato altro il tentativo di fuga di The Miz è sfociato poi nell'arrivo di Strowman esatto, vogliamo peraltro ormai renderci conto ufficialmente di come Braun Strowman sia ormai un personaggio dei cartoni animati? ma totalmente è totalmente un personaggio e aggiungo mi va benissimo così tra l'altro mi va benissimo così per il modo in cui lo stanno gestendo mi va benissimo così ma sai cos'è che penso che fosse il segmento di di Strowman? sì, penso che fosse un segmento che hanno messo lì ma è un segmento fatto opposta però è messo su Youtube con il titolo Strowman Returns perché c'è la durata giusta c'è il ritmo giusto e c'è tutto c'è tutto Braun Strowman dentro intanto ci arrivano delle immagini da Glasgow adesso ve le faccio vedere appena possibile più che altro perché praticamente c'è del merchandising nuovo in vendita a Glasgow adesso ve lo faccio vedere appena possibile più che altro io giocherei con voi a scovatele d'errore questo oggetto viene venduto in questo momento l'hai già vista l'immagine? questa è la maschera di Nakmaura come viene più che altro viene peraltro detto qui da questa immagine in realtà è la maschera di Asuka però vabbè e viene venduto c'è questo cartello che ha detto WB15 sterline mask Nakmaura Nakmaura praticamente ammesso che Nakamura abbia mai indossato una maschera in vita sua non credo sia questa più che altro sembra il nome di una di quelle maschere ad steak e farlocke esatto sì esattamente esattamente vabbè questa immagine che gira sui social diciamo da diciamo da da qualche ora ma quando sono partiti quando partono? oggi? domani? no veramente allora il roster di Ro è partito lunedì sera più che altro ah ok ok non lo sapevo cioè non è che mi scusi se avevano show se avevano prendo il telefono e dico quando è che partono i tuoi colleghi mi permetta mi permetta mi permetta dottoressa Paolino se stasera avevano show a Glasgow mi sembra ovvio che sono partiti lunedì sera ah no mi scusi ecco diceva dottor Bernasconi ho un aggiornamento sulla presenza di Giovanni sì mi dicono Giovanni è in giro fin tanto con le sue airpods resteranno cariche giusto è vero assolutamente sì assolutamente sì è assolutamente così no comunque stavo cercando più tanto i risultati della WWE a Glasgow giusto per giusto per vedere se a parte che credo che lo show stia finendo o sta beh sono le 10 e mezzo sì magari finisce tra mezz'ora aspetta un secondo eh ah ok no niente stavo leggendo una cosa ma è una scheda stavo cercando più che altro i risultati di Glasgow della 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 WWE più che altro ma non riesco trovare il roster di Raw più che altro ha iniziato il diciamo il il tour questa sera quello di SmackDown invece ha finito ieri sera negli Stati Uniti adesso è arrivato praticamente come posso dire sono arrivati praticamente qualche ora fa cominceranno il tour che poi li porterà il prossimo weekend cioè non questo chiedo scusa la prossima settimana li porterà in Italia venerdì 10 novembre a Milano sabato 11 a Padova e domenica 12 chiedo scusa alle 17 a Firenze torniamo però alla puntata di Raw più caldo vai 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 no una domanda da Firenze partono direttamente per le Americhe è il motivo per cui fanno lo show alle 5 è il motivo per cui lo show alle 5 di pomeriggio o alle 8 di sera cosa meno poi hanno riparto immediatamente arrivano diciamo lunedì mattina lunedì mattina americana negli Stati Uniti hanno un giorno per poi per poi rilassarsi tra virgolette una parola un po' grossa e poi andare a fare SmackDown martedì sera tenendo a conto che poi c'è anche c'è anche no il pay per view è dopo due settimane quindi poi avranno una settimana no il pay per view è la settimana dopo no è il 18 non è il 18 su Vivo Series no aspetta un secondo aspetta un secondo no mancano 3 settimane su Vivo Series giusto credo ieri dicevano 3 settimane fammi vedere un attimo la data più che altro o meno o meno di 3 settimane no hai ragione tu hai ragione tu perché il pay per view è domenica 19 sì lo show è il 12 sì hanno poi sì sai cosa hanno il weekend libero nel senso che non credo abbiano a un show il weekend che porterà poi a survival series però avranno pay per view naturalmente la domenica fammi controllare un secondo ma non mi sembra che ci siano a un show in quel weekend comunque vabbè non è diciamo fondamentale il disco per vedere quando poi riposeranno più che altro i wrestler visto che comunque il tour il tour praticamente sembra comunque abbastanza abbastanza probante dal punto di vista puramente fisico naturalmente perché comunque è un tour di due settimane che per carità porta dei soldi alle superstar da WWE però è comunque un tour effettivamente abbastanza massacrante come peraltro sempre come peraltro sempre succede tornando alla puntata di Roddy lunedì sera abbiamo avuto diversi ritorni abbiamo avuto il ritorno di purtroppo Stephanie McMahon che se non altro ha avuto questa volta teoricamente un buon motivo per tagliare gli zebedei alla figura all'autorità di tour in questo caso Kurt Angle anche se in realtà poi se andiamo a analizzare la storia di Lanka dal punto di vista della logica ok lei è la responsabile la sicurezza l'ha messa a lei la sicurezza è stata messa fuori gioco dall'arrivo di SmackDown quindi in realtà la colpa sarebbe anche un po' sua e non di Kurt Angle però Stephanie McMahon è un heel quindi gli heel sappiamo che sono bugiardi e ipocriti quindi non diciamo non c'è quantomeno questa volta questa volta c'è un motivo teorico per la sua furia nei confronti di nei confronti di Kurt Angle contando anche che si è fatto lui praticamente tra virgolette uccellare dal fratello con cui non ha un bel rapporto essendo comunque i due commissioner degli show che sono teoricamente in competizione ma non importa Eric perché questo ha portato alla più bella serie di segmenti degli ultimi anni vero o quale? quale di grazia? ovvero tutte le varie reazioni di Angle come ti ho già detto prima dalla prima all'ultima se qualcuno facesse una compilation di questa puntata sarei davvero un ragazzo felice no ma infatti uno dei problemi principali della WWE al di là del fatto che i segmenti sono scritti col culo e vabbè quelli non è che ci possiamo far molto uno dei veri problemi è che anche la qualità della recitazione è veramente di livello infimo praticamente in questa compagnia però non era cattiva quella di Angle era troppo ma non era cattiva no era anche cattiva più che altro era anche cattiva ecco sto andando più che altro a cercare il il pezzo praticamente con il pezzo praticamente con 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 cortengola e Daniel Bryan effettivamente mancava soltanto che tirasse fuori un taser per spenderlo quando era lì ma perché proprio col taser scusami non ti avvicinare zzzz no ma perché proprio col taser perché manca soltanto quello al panico che stava lui dimostrando in quel momento sono qui sono qui no sono venuto in pace lui ma vabbè ma vabbè abbiamo visto recitazioni peggiori non tantissime in realtà però abbiamo visto vediamo costantemente recitazioni peggiori negli show di WWE ormai da da molti anni a questa parte per non parlare delle donne più che altro vi ricordate il meraviglioso segmento di qualche bella questa faccia intanto tua Marta dicevo vi ricordate più che altro il segmento di qualche settimana fa con Bayley e Sasha Banks negli spogliatoi dopo che Paperview era Elena Sell forse non mi ricordo che Paperview era dopo non me lo ricordo neanche no Elena Sell era di Smackdown no non era Elena Sell hai ragione tu era oddio non ricordo che Paperview era un Paperview di Raw praticamente era la fase vado I will feed you no era sì era ecco qua era 25 settembre credo credo che ce l'abbiamo credo che ce l'abbiamo qui eccolo qua possiamo che domandarlo in onda livello di recitazione fin porno ma il porno anzi il porno è recitato meglio sì sorry ho caught up with a lot of stuff and forgot to touch you back you know it was every woman for herself out there yeah I know it's just never mind it's okay what it's nothing it's okay I mean I was this close this close to getting my championship back just for to get taken away I know exactly how you feel you weren't the only one fuck it's okay it's fine I'm over it and you should be over it too look we're teaming tonight and we should focus on Emma and Nia Jax the woman that tries to take you out the woman that tries to end your career e vediamo che queste due sono amiche per la pelle mi sembra un dialogo ben poco convincente da parte di due amiche per la pelle e ascoltandolo con attenzione potevo capire quale punteggiatura avesse messo quello che ha scritto quella cosa in che posizione qualcosa del genere sì esatto esattamente comunque era il road dopo No Mercy eh No Mercy grazie 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 Marta no tornando a noi più più che altro va detta una cosa va detta va detta una cosa più che altro per quanto riguarda per quanto riguarda Survival Series è un pay per view che diciamolo non ha creato grandissima aspettativa negli appassionati credo probabilmente di essere generoso nella usando questa affermazione però va detta una cosa il main event se i team sono effettivamente confermati e pare siano confermati contando anche cosa sta succedendo a livello di storyline il main event scusami il match a squadre Raw contro Smackdown quello maschile dovrebbe essere molto bello molto molto bello anche aggiungo perché i team i team per quanto riguarda Survival Series dovrebbero essere per quanto riguarda Smackdown abbiamo Bobby Roode abbiamo Shinsuke Nakamura abbiamo AJ Styles non AJ Styles scusami abbiamo Randy Orton sì abbiamo Randy Orton esatto che ha battuto che ha battuto abbiamo Shane McMahon Randy Orton Bobby Roode Shinsuke Nakamura e uno tra Styles e Rusev presumo AJ Styles da Raw invece avremo Kurt Angle Braun Strowman e altri tre che devono essere terminati però erano usciti i nomi praticamente di questi di questi tre uno sarà penso Samoa Joe l'altro erano Samoa Joe gli altri due erano Roman Reigns l'altro e il quinto non mi ricordo chi non mi ricordo Finn Balor il quinto deve essere Finn Balor quindi comunque vai 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 Moreno mi fa morire da ridere come avevano fatto passare Smackdown come lo show Hill e poi praticamente dentro il team di Smackdown ci sono soltanto Face eh vabbè sì lasciamo stare non usciamo vivi se facciamo questa analisi non usciamo vivi permettimi non ne usciamo vivi comunque Eric in me ci potrà essere interessante quanto vuoi però su una cosa ha ragione Mattia a cosa mi porta il giorno dopo sì cioè sia che ne vinca uno sia che vinca l'altro cosa mi ha portato tutto questo a niente sai cosa è Marta quello sicuramente no infatti il mio discorso il mio discorso era esclusivamente dal punto di vista diciamo tecnico qualitativo quello dovrebbe essere un ottimo match dovrebbe essere assolutamente un gran match l'ottimo match che vedremo è anche Enzo Amore contro Calisto ma vai a cagare te Enzo Amore Calisto e altre cose ascolta è l'unico match io dico solo una cosa date il titolo Drugula che facciamola finita cioè date Drugula che in questo momento merita il mondo contando anche anche soltanto il promo che ha fatto a Raw 2D mi ha fatto molto molto ridere no comunque dicevi Marta scusami no tra l'altro è l'unico match con Impaglio in titolo quello tra Enzo Amore e Calisto eh sì eh sì assolutamente sì fortunatamente hanno avuto la creanza il che la dice lunga da quel punto di vista chissà se adesso Calisto farà un promo dove dirà che difenderà con successo il suo titolo sì esatto che vincerà di nuovo il titolo esatto io ripeto date il titolo a Gulak dopo lunedì date il titolo a Gulak la faccia con cui l'ha guardato Enzo dopo che l'ha fatto lo spelling corretto di Soft e non quello all'Enzo Amore e come giustamente detto da Brian Alvarez nel post show di ieri sapevi esattamente cosa avrebbe fatto nel momento in cui ha cominciato la frase sapevi che l'avrebbe detto correttamente cioè con lo spelling corretto però comunque ha fatto ridere anche se mi aspettavo la battuta ne è valso la pena comunque da quel punto di vista tornando a tornando a Survivor Series stavo più che altro ultimando stavo più che altro ultimando diciamo la grafica la grafica esatto esattamente perché abbiamo anche l'annuncio ufficiale di Enzo Amore contro di Enzo Amore contro Calisto per quanto riguarda il titolo Cruiser anche se dubito che dubito che Enzo che Enzo Amore perda la cintura qui sarebbe bello ma la vedo quanto complicata non so cosa ne pensate più che altro la domanda vera è chi cacchio glielo toglie il suo titolo vediamo tra l'altro non so dove ti hai letto il rumor che gira sulla divisione Cruiser più che altro no quale di chi potrebbe portare su da NXT per la divisione Cruiser giravoggi Itami esatto esattamente lui stava un'ottima cosa sì ma non è un Cruiser c'è questo piccolo problema non lotta la Cruiser non è non è un peso Cruiser cioè no scusami è un peso Cruiser ma non lotta la Cruiser c'è questo piccolo dettaglio Eric dimmi tu tu quando pensi a Cagnomega pensaresti mai che potrebbe lottare per la categoria Cruiser no assolutamente no scusate un attimo ecco qua era su una pagina di una radio dicevi scusa però di peso potrebbe ma no perché è sopra i 205 lui in questo momento è diventato anche è diventato anche più grosso rispetto a prima ma comunque vabbè Itami no Itami è sotto i 205 il problema è che non lotta la peso Cruiser come peraltro molti della divisione Cruiser che è uno dei problemi di tua 5 Live vai guarda il campione esatto esattamente effettivamente non è neanche un male se lottano in un modo diverso perché comunque come hai già detto no è un male è un male nel momento in cui nei match del main roster vedi più voli che non quelli che fanno i Cruiser quello è un male è assolutamente un male da quel punto di vista quello è sicuro ma visto che comunque non toglieranno i voli a Rollins a IG Styles eccetera esatto il problema è quello il problema è assolutamente quello però io dico benvenga che arriva uno come Itami che non lotta da Cruiser allora perché almeno sai il problema è che anche gli altri non lottano da Cruiser cioè il grave della faccenda è quello ma guarda Eric tanto sappiamo che prima o poi questa divisione offragherà è inevitabile quindi a un certo punto eh godiamoci il tuo 5 Live eh godiamoci il tuo 5 Live però insomma vabbè no è un ottimo è un ottimo show ma già parte dei casi però potrebbe essere migliore tutto qua più che altro dovrebbero anche eliminare un pochettino il discorso del Ghetto ma quello va bene non è che ci può fare non si può fare molto vabbè andiamo a rivedere la card più che altro di Survival Series la card momentanea che è questa Brock Lesnar contro Ginger Mali in un champion vs champion match Alexa Bliss contro Natalia anche qui campione campionessa anzi contro campionessa di Nembrose e Steph Rollins contro gli Usos campioni di coppia contro campioni di coppia Deminza contro Baron Corby campione intercontinentale contro campioni degli Stati Uniti poi il team Raw rappresentato da Kurt Angle Braun Strowman e altri tre nomi che devono ancora essere nominati contro il team SmackDown Randy Orton Shane McMahon Bobby Roode Shinsuke Nakamura e uno tra AJ Styles e Rusev in un 5 contro 5 maschile poi il 5 contro 5 femminile Alicia Fox Nia Jax e altre tre superstar di Raw contro Becky Lynch Carmella Charlotte Flair Naomi e Tamina per quanto riguarda il roster di SmackDown infine Enzo Amore contro Calisto per il titolo Cruiserweight match annunciato nella giornata di oggi poi vedremo se ci sarà aggiunto qualcos'altro magari anche per il per il kickoff ricordiamo che il kickoff dura due ore sull'anno series quindi sento puzza di 5 contro 5 dei cruiser o altre amenità più che altro comunque comunque Eric guarda la nostra chat perché è arrivata una immagine abbastanza esplicativa sullo show di chat quale scusa discord o youtube no vai su su whatsapp ah su whatsapp scusami su whatsapp vado 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 intanto apro apro anche whatsapp cos'è meno leggo leggo i messaggi più tanto che ci arrivano in onda ricordiamo 370 310 9000 se volete mandarci messaggi tramite whatsapp cos'altro da dire di roba perché comunque abbiamo parlato poco della puntata in generale abbiamo avuto il segmento di stefani con angle che ha dominato la puntata il segmento con brian che è una diretta conseguenza di quello che è successo poi nel di quello che è successo poi nel segmento iniziale no ecco avrei una domanda sulla puntata si che è una domanda di logica si che mi fa sempre piacere vedere mids per stato perché è un ottimo hill e mi fa piacere vederlo preso malmenato sì però perché stroman dovrebbe volersi vendicare proprio tra tutti su the mids quando è Kane quello che ha scaturato è stato diciamo un concorso più che altro di 4 persone alla fin fine c'è stato anche the mids e il misturage in mezzo poi arriverà anche la vendetta con Kane sicuramente io faccio partire una rissa con un tipo al bar uno cerca di fermarmi tira un cazzotto lo cerca di fermarmi io non me la prendo con quello che cerca di fermarmi me la prendo con tutti e due cominciamo a prendermela con uno poi me la prendo anche con l'altro naturalmente più che altro la cosa potrebbe avere dei risvolti positivi cioè stroman campione intracontinentale cosa che non mi farebbe per la quale non avrei assolutamente nulla in contrario sarebbe molto bello molto bello non lo so sarebbe una cosa interessante dal mio modesto punto di vista io l'avevo già detto per me stroman un giro titolato se lo meta assolutamente ah certo sicuramente senza dubbio sono pienamente d'accordo come si è sbattuto lui in questo periodo non c'è nessuno sono pienamente d'accordo pienamente d'accordo Marta sì anche io un titolino a stroman a dirlo dare ma io gli darei proprio il mondo io l'avrei dato anche il titolo del mondo parzialmente a stroman però diciamo che si è trovato nel posto giusto ma al momento sbagliato perché comunque sfortunatamente la direzione per resta e magna la sappiamo che stroman contro reins e quindi sfortunatamente non si è potuto fare stroman scusatemi l'esda contro reins l'esda contro reins sinceramente mi sembra effettivamente si è sprecato il titolo intercontinentale per stroman però se io vogliamo dar diamo no sì no sono d'accordo su quello però possiamo effettivamente è un po' che non abbiamo un campione intercontinentale o comunque un campione secondario grande e grosso che magari non punta sulla warcrate era magari il tempo di Roman Reigns Roman Reigns quando era campione degli Stati Uniti però comunque anche lì sappiamo comunque è una situazione un pochettino diversa minza che perde il titolo contro Strohman potrebbe essere una soluzione interessante effettivamente è già diverso rispetto a che Roman Reigns vinca il titolo contro The Miz da un altro impatto effettivamente mamma che immagine che mi ha appena mandato l'ho vista adesso aspetta che la aspetta che la metto in onda più che altro aspetta un secondo che cerco di cerco più che altro di eccoci qua vediamo se riesco a mandarla in diffusione abbiamo delle immagini sempre da Glasgow più che altro perché abbiamo un nuovo membro dello Shield dopo Kurt Angle che ha fatto diciamo la sua apparizione a TLC abbiamo anche come potete non lo potete vedere più che altro perché in questo momento non è in diffusione eccolo qua abbiamo Triple H con la divisa dello Shield che più che altro gli serve mascherare la panza più che altro che abbiamo visto in Cile nella sua ultima apparizione posso dire che Triple H conciato in questo modo è di poco ridicolo? comunque non è lo Shield è lo Shield è lo Shield con 3H effettivamente sì esatto è lo Shield con 3H sì Shield esatto mi fa morire da ridere questa cosa come? mi fa morire da ridere tipo conciato così sì fa ridere effettivamente conciato conciato in questo modo ma fa ridere fa ridere così anche a fianco a set roll no poi più che altro gli serve anche a mascherare la panza più che altro se lo avete visto in Cile aveva una discreta una discreta panzotta effettivamente ma scusa ma non ha utilizzato quindi il suo DVD per gli esercizi con Eli Drake per togliersi la pancia evidentemente sì evidentemente sì va bene va bene va bene torniamo torniamo a noi più che altro tornando a Raw più che altro di lunedì sera alla fin fine io sto leggendo il report non è che mi sembri questa grandissima puntata anche nelle prime due sai cosa mi è passata bene vuoi perché comunque vuoi perché comunque era all'una e non alle due e quindi è finita un'ora prima rispetto al solito visto che visto che gli americani cambieranno l'ora al prossimo weekend quindi in questa settimana abbiamo un'ora diffuso orario in meno rispetto agli stati italiani che anche ieri sera Sbac ha iniziato all'una e anche NXT più tardi sul network andranno all'una ora italiana più che altro però ripeto le prime due ore mi sono passate anche bene vogliamo parlare più che altro del modo in cui la WWE sta costruendo ottimamente il ritorno di Daniel Bryan che avverrà però in Ring of Honor continuano a fare angle che sembrano far pensare a un ritorno di Daniel Bryan sul ring e poi avverrà ma sarà in un'altra compagnia molto probabilmente tra un anno quando scadrà il contratto anzi Eric vai diciamo il suo contratto gli impedisce di esibirsi in compagnia è giusto? ma su una crociera Eric no la crociera non può andare in questo momento sotto contratto con la WWE che cazzo dici? lo so era per fare la partita lo so il fatto che Gerico sta annunciando chiunque ma Gerico in questo momento non è sotto contratto con la WWE c'è questa piccola differenza Gerico in questo momento non è sotto contratto con la compagnia ah già non è sotto contratto no se no non potrebbe fare la crociera probabilmente in questo momento Gerico non è sotto contratto con la compagnia il suo contratto ultimo è scaduto poi arriverà quando poi tornerà con la compagnia gli faranno un nuovo contratto però lui in questo momento non è sotto contratto con la WWE il che può il che può permettergli di andare a fare uno show con o comunque di fare accordi con la Reno Vonor ok? che poi comunque Gerico ha ovviamente ha anche uno status all'interno della compagnia che eventualmente gli permette di fare cose più come si dice schermo esatto gli permette più che altro di fare cose che magari ad altre non sarebbero permesse però scusami scusami lo rimetto in infusione avete pazienza eccoci qua adesso si dovrebbe vedere stavo leggendo Twitter più che altro allora vabbè lo diciamo perché più che altro in questa traduzione non abbiamo mai parlato Gerico sta organizzando una crociera a tema wrestling le avevamo parlato forse nel caffè della crociera sai cosa ne abbiamo accennato nel momento in cui praticamente avevamo parlato del fatto che lui stesse parlando male di Omega mi sembra su Twitter abbiamo detto che comunque sembrava evidente che fosse una costruzione di qualcosa abbiamo detto più che altro sì in passato l'abbiamo detto magari comunque perché io mi ricordo che l'unica volta che ne abbiamo parlato in questa serie ero io con la risposta ma chi se ne frega della crociera sì è una cosa per la crociera più che altro la notizia è che a bordo della crociera si saranno i Bucks i Bucks si saranno i Bucks e probabilmente ci sarà anche qualcun altro perché spieghiamo è una crociera che è organizzata con l'ausilio a livello di diciamo di wrestling della Ring of Honor ci sarà un torneo della Ring of Honor all'interno di questa crociera vedremo se sarà anche ripreso questo torneo in qualche modo se sarà messo come evento on demand più che altro di questa compagnia abbiamo intanto anche altre immagini da diciamo da Glasgow sempre di questa versione molto particolare dello Shield vediamo se riusciamo a metterla a mettere in onda più che altro questa cosa appena appena possibile ma credo si possa alla fin fine vediamo un attimo vediamo un secondino ecco qui credo che possiamo credo che possiamo credo mandare il proceduto abbiamo l'audio anche ecco qua ovazione ovazione del pubblico tra l'altro per questo per questo momento dello dello Shield con 3H ricordiamolo confermo che Triple H sconciato così sta veramente veramente ridicolo però vabbè l'ho scambiato per Rowan basso ma giù le mani da Rowan che è la gimmick della John Brothers è la cosa più più divertente anzi chiedo scusa del Team Rocket ormai perché parlo nello stesso modo scusami scusami io non vedo l'ora di vederli debuttare questi e li vedremo dopo Survivor Series più che altro forse sono l'unico stronzo Mark di Harper no non è vero guarda che Harper è sottovalutatissimo sono d'accordo a me piace un casino con l'uomo eccolo qua perché non dovesse seguire i Pokémon più che altro quella sotto è la musichetta che accompagna l'ingresso del Team Rocket quando entrano nei Pokémon ma dov'è il gatto dov'è il gatto infatti mancava 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 nel video Wyatt che veniva da sotto e diceva miau proprio così però vabbè non l'abbiamo visto Natalia come scusa? aspetta che tolgo che non ti si vedeva vai Natalia vabbè giusto è un gatto quindi sì però non aveva senso con la presenza degli ex Wyatt più che altro li ha mai fermati? no è vero che questo è vero che questo vabbè però non è che possiamo fare cose in continuazione che non hanno senso giusto perché la Davide ha mai però permettemi Eric ha senso che Triple H che è l'uomo che ha distrutto lo Shield faccia il Tripolet non ha distrutto lo Shield cazzo dici vabbè sì meglio lo ha fatto distruggere a Rollins più che altro vabbè è stato il mandante sì è stato il mandante se vogliamo però insomma insomma colui che ha fatto distruggere lo Shield è nello Shield adesso allora vediamo un pochettino vediamo un pochettino i segmenti che abbiamo saltato no parliamo della nuova finisher di Alexa Bliss fantastica vabbè è una grande finisher usata in passato da gente come da gente come da gente come William Regal Big Show è Big Show esatto the power the power of the punch la nuova finisher il problema è che se te lo fa una nana di un metro e venti vabbè che ne sai scusa Floyd Mayweather è alto un metro e dieci è uno dei più grandi pugili della storia dello sport che c'entra ma lui c'ha i muscoli Alexa Bliss non c'ha manco ma non è vero non è guarda che i nanetti menano tanto non è obbligatorio che diciamo che non è obbligatorio che menino solo i più grandi e i più grossi che poi adesso facendo un discorso serio per quanto il wrestling non possa essere serio i più grandi attestino al ser sono tutti più bassi perché hanno il centro di gravità più basso e quindi è meglio no vabbè comunque attendiamo più che altro a questo punto direi che il main event di Wrestlemania è praticamente segnato Alexa Bliss contro Floyd Mayweather Alexa Bliss batterà il record di Floyd Mayweather dannogli la prima sconfitta in 40 match 41 anzi no era già 40 quindi quello con Mayweather era 41 quindi la prima sconfitta in 41 match dimmi la domanda Eric questa finish come la chiameranno perché io ho il terrore che un qualche io lo chiamerei The Power of the Punch era quando Riga lo usava il tirapugno per vincere in 6 match no perché io più accanto ho la paura che un qualche velato riferimento al fisting ce lo mettono ma Smet ma lei è un malizioso però mi permetta mi permetta no sono uno che ha capito come ragione sta compagnia dopo il team PCB vabbè lasciamo stare no Smet non ieri sera tra l'altro visto che era la notte di Halloween ha fatto 2.119.000 che è il più basso ascolto dal 13 giugno di quest'anno la settimana scorsa ha fatto 2.7.000 2.699 la settimana 2.119.000 notte di Halloween quindi diciamo che poteva anche essere abbastanza preventivabile come cose tra l'altro sono anche diciamo sono anche abbastanza fortunati perché ieri sera non non c'era più che altro gara 7 della finale del baseball che è questa notte questa notte a luna c'è la finale c'è l'ultima la gara decisiva praticamente per assegnare il titolo del baseball tra Houston e tra Houston e Los Angeles Dodgers la fanno vedere anche in Italia su Fox Sports è una serie che è stata una delle più belle serie di di World Series da tantissimi anni a questa parte con partite una più fuori di testa dell'altra anche se non vi piace il baseball ve la consiglio perché è stata veramente una serie fantastica e mi sa che questa sera anche la partita non sarà eccezione il baseball è quello con le mazze vero? si è quello il batti e corri come lo si chiama volgarmente comunque si ecco toggetemi una curiosità dimmi da voi insegnano a scuola nell'ora di ginnastica il baseball ascolta Moreno Moreno permettimi è già tanto se mi hanno insegnato a giocare stavo 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 è già tanto che ci sia l'ora di ginnastica nelle scuole lei ha una concezione ha una concezione della scuola che è rigorosamente svizzera e quindi è decisamente più efficiente rispetto a quella italiana mi permette dottor dottor noi come sport noi come ci hanno insegnato saltare con l'asta fare il salto con l'asta l'hanno insegnato a voi alle scuole non scherzo davvero giocare a fare lavoro ma io quando facevo ginnastica al liceo c'era il quadro svedese queste altre puttanate che ci facevano fare a giocare a dodgeball salto in alto ce l'hanno insegnato sia con il salto normale che con il metodo con il metodo Fosbury però con risultati assolutamente assolutamente imperdivi io ho fatto solo il test di Cooper anche io l'ho fatto il test di Cooper basta arrivavo sempre straultimo nel test di Cooper però vabbè e poi ultimamente Moreno nelle scuole italiane da qui in avanti c'è il lancio dai cestini alla prova sì esatto pareggio sport nazionale effettivamente vabbè tornando a infatti dice Brian a me a scuola già sai che ci facevano giocare a calcio ma io avrei voluto giocare a calcio le scuole ci facevano giocare sempre a pallavolo che è uno degli sport io sposo la tesi di Maurizio Mosca sulla pallavolo uno dei sport più noiosi della storia del mondo credo la pallavolo no da noi c'era la divisione le femmine giocare a pallavolo i maschi a giocare a calcio a calcio o a basket magari avrei preferito il basket no no nemmeno il basket avrei preferito il basket vabbè tornando a noi più che altro tornando a noi tornando alla puntata di 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 martedì di lunedì sera più che altro The Miz ha conservato il titolo il titolo intercontinentale battendo Matardi bel match tra l'altro anche quello bel match quello mi è piaciuto già cioè quando è uscito Matardi sapevi che non avrei sicuro vinto no quello si quello sicuramente quello sicuramente però quanto meno quanto meno è stato un buon match è stato anche fin lungo più che altro vogliamo parlare anche di Alicia Fox capitano del team di capitano di una nave quanto quanto sembra più che altro è la nave di Jericho dai esatto la guida era lei dopo tre dopo tre dopo tre nodi vanno dopo tre anzi dopo tre miglia marine andranno a schiantarsi contro un iceberg perché non ci salirei mai neanche io ti dico la verità neanche io salutate i Bucks ah perché Alicia Fox guida cioè guida è al timone più che altro va bene abbiamo avuto il ritorno di Naya Jax che ha che ha battuto in tutto sommato poco tempo Bayley perché giustamente è nata via Emma quindi serve una jobber nella divisione e chi meglio di Bayley quel finale di match con la Jax che fa quella sorta di spiar e poi parte con il leg drop non ti è sembrato quando in WWE 2K i wrestler bocciano una mossa e allora c'è l'immazione che non sanno bene cosa fare e rimangono a terra così un po' un po' si no tra l'altro purtroppo siamo stati privati di uno dei momenti potenzialmente più belli della storia in una puntata di Raw cioè Naya Jax va via entra Samoa Joe e purtroppo Samoa Joe non mena Bayley io pensavo che arrivassero lì per menare Bayley purtroppo non è avvenuta una cosa del genere sfortunatamente e io ero già lì che pensavo che tu scippassi Naya Jax con Samoa Joe no 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 io pensavo visto che è entrato che è entrato mentre Naya Jax stava uscendo pensavo che andasse sul ring e ci fosse ancora Bayley e menasse Bayley gratuitamente proprio senza motivo la stessa cosa che ho pensato io alla fine con Strowman e Alexa Bliss dai no Alexa Bliss è andata fortunatamente via comunque vabbè Asuka ha vinto uno squash alla seconda settimana lo squash si può fare diciamo che col senno di poi il fatto che abbiano mandato via Emma non spiega la gestione dei match che hanno avuto perché se la decisione è stata presa di licenziare Emma è stata presa prima del match tra Asuka e Emma effettivamente non ci sarebbe non c'è stato alcun motivo per avere dei match equilibrati tra Asuka e Emma alla fin fine ma io te lo ripeto mi puoi dare tutte le come si chiama tutte le scuse del mondo tutte le ragioni del mondo per me quel match è sbagliato vabbè no non è sbagliato nell'ottica non è sbagliato nell'ottica di non ci sono donne e quindi allora non possiamo permetterci di swashare nessuno più che altro nel momento in cui però mi licenzi Emma ovviamente diventa sbagliato perché comunque a quel punto il motivo non è tenere comunque su Emma fargli fare una bella figura e contemporaneamente farla fare anche ad Asuka che vince comunque in modo dominante perché viene meno questo motivo qui alla fin fine se tu poi mi mandi via Emma cinque giorni dopo il match del pay per view e poi quello di quello di ora del giorno dopo chiaro nel momento se me la tieni e poi me la spingi comunque in modo accettabile la divisione allora ha anche senso fargli fare un match non equilibrato ma comunque un match dove fa una buona figura più che altro nel momento in cui me la mandi via ovviamente no viene meno tutto questo ragionamento alla fin fine Eric parlando di Emma sì vogliamo fare un attimo una parentesi riguardo a Leo Rush out of WWE ma non va via dalla WWE ha fatto un tweet mi sa al momento ha fatto un tweet più che altro che poteva essere tranquillamente interpretato come una presa in giro di una persona che aveva appena preso il lavoro va detto che non è la prima volta che comunque lui fa faceva un tweet per tra virgolette vendere la storyline tra Asuka e Emma però lo ha fatto in modo sbagliato William Riga l'ha correttamente detto invece che fate i bulli voi esperti del backstage esperti più che altro del diciamo del esperti più che altro del backstage dell'adattore più di esperienza invece che fate i bulli prendete questo questo adottatore dategli più che altro un paio di indicazioni per far sì che non si ripeta la cosa in futuro più che altro alla fine probabilmente avranno fatto una chiacchierata con lui gli ha detto guarda nel caso avrà un po' di hit per un po' di tempo però poi se diciamo se terrà se terrà il naso pulito diciamo usando questa espressione poi la cosa si risolverà alla fine di certo ha fatto un brutto tweet quello sicuramente ma ma è diciamo cioè non l'ha fatto con cattiveria alla fine però poteva essere interpretato in quel modo assolutamente è stato mal interpretato secondo me effettivamente no è stato mal interpretato più che altro ha scelto male anche i tempi più che altro cioè capisco l'intenzione però ha sbagliato completamente i tempi alla fine sì però che fosse fatto con cattiveria non penso nemmeno io magari lui non ci ha proprio pensato però è vero che se su una bruciatura non ci devi gettare sale no infatti infatti purtroppo ha sbagliato i tempi te lo dico è stato quello che ha sbagliato perché poi fin dei conti non ci ha manco pensato no infatti non ha fatto collegamento diciamo che adesso probabilmente ci penserà quello quello sì allora 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 mi hanno scritto quella mezza dozzina di wrestler sì anche di più di mezza dozzina probabilmente anzi togliamo anche di più si è scomodato anche Bray Wyatt che di solito non scrive esatto esattamente sì tra i fumi della meningite ma no ma no ma no ma no comunque il come dire il post più bello è quello di Rusev sì if I go I go è un poeta è un poeta Rusev l'abbiamo come dire l'abbiamo visto già con con il suo posto di Instagram che è un grandissimo poeta una persona molto fine soprattutto per quanto riguarda quello che fa la sua moglie nelle cose private Erik hai capito cosa fa penso di sì ma penso che ti stia anche ignorando perché è un no stavo leggendo ho vengato un messaggio che mi è arrivato dicevi scusa sto aspettando giusto che qualcuno di voi cambi discorso per non farmi dire quello che stanno dicendo no cosa stai dicendo dai ma non l'hai visto il post di Rusev ah sì quello di Emma quello sulla moglie più che altro sì ero con quelli innuendo abbastanza eh sì mia moglie ha le ginocchia sbucciate chissà come mai ha detto eh vabbè dai posso dire posso spezzare una lancia a favore di Rusev che è una delle cose più divertenti da vedere a SmackDown da qualche settimana a questa parte ma al di là del Rusev Day la cosa no 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 sai qual è la cosa che mi fa più ridere di Rusev ti ricordi quando un mese fa è stato intervistato dopo che aveva battuto Orton in dieci secondi praticamente dopo averlo attaccato dopo post match se ti ricordi è stato intervistato da da René Young no e e gli ha detto praticamente gli ha detto Rusev sarai euforico per quello che è successo e Rusev gli ha detto non so cosa vuol dire euforico perché gli ha detto you must be elated e Rusev ha detto I don't know what that means e adesso se noti usa quella parola lì in ogni promo che fa anche ieri sera quando adesso ve lo faccio ascoltare vado a riprendere il pezzo di SmackDown quando è stato fermato praticamente dal dal New Day nel nel backstage praticamente eh devo beccare devo beccare il segmento aspetta credo che sia nella seconda nella seconda ora più che altro di 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 SmackDown secondo solo che vado che vado a riprendere il tutto più che altro ah no no questo è Big E contro Rusev era già era già più che altro deciso il match da da un po' di tempo a questa parte comunque vabbè lo ferma lo ferma praticamente in New Day alla fin fine gli lancia gli lancia la sfida e lui dice sarei estatico di avere questa sfida e poi dice la stessa cosa dopo nel promo con Shane McMahon cioè Rusev e quell'ottatore è tipo Bob Beckland che scopriva una parola e poi la usava 30 volte nei promo Rusev la sua gimmick adesso è che che ha scoperto l'uso della parola ilated ovvero euforico e la usa costantemente nei promo sai cosa mi fa riderissimo vai sai cosa è la bellezza di Rusev si è che ti ricordi prima quando ho detto che ho riuscito un sacco più via dell'overacting di Angle si Rusev fa anche lui overacting però fa quell'overacting divertente si ma poi più che altro lui diciamo può permetterlo più che altro perché ha la parte dello straniero più che altro e se lo straniero lui può permettersi anche di fare in questo modo più che altro lui è abbastanza un personaggio over the top si certo naturalmente 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 ecco qua ecco qua ho trovato il pezzo aspetta di in that ring sucker I'll be elated to sucker mi provo più bello degli ultimi 186 anni a di anni fatto di quei tre lì vestiti in un modo ridicolo più che altro cioè avevamo Woods era davvero degno di nota scusami Woods era davvero degno di nota Woods era conciato da Jimmy Hart se non ricordo male beh scusami Kofi Kingston più che altro anche da Kofi Kingston anche da come si chiama da da Brother Love e poi c'era Hakim ovvero Big E più che altro eh aspetta un attimo che ritorna Rusev eccolo qua vedi che uso la parola in continuazione adesso quanto sei euforico comunque la cosa che mi ha fatto più ridere questo momento è la faccia di come si chiama è la faccia di la faccia di Rusev è quando Shane canta che non riesce a non trattenere le risate più che altro io quella di English eh anche quella di English via tanto li vedremo in Italia ricordiamo perché ormai sono un tag team allora Rusev e English saranno nel Fatal 4 Way per i titoli tag che sarà poi eh guarda la televisione di SmackDown è un bisogno disperato il tag team si è un tag team improvvisato come peraltro abbiamo visto più volte nel passato però ci può stare guarda anche sulle storie recente Shemus e Cesaro sono un tag team inseritato al momento si nessuno dei due mi sembra Cesaro però permetti inizio questo piccolo dettaglio si lo so però capisci comunque hanno fatto benissimo si 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 hanno praticamente risollevato la divisione tag di Ro poi vabbè dire che i migliori non puoi dire perché ci sono gli Usos che al momento sono in uno stato di grazia è vero è vero ah ma non vogliamo parlare del come si chiama di Shelton Benjamin che ha cercato in tutti i modi di imitare un meme di Inter si 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 è il film delle finte battaglie rap non mi ricordo come si chiama il tizio porca mille Sykes the wrong number si no non si chiama così il come si chiama il personaggio non mi ricordo come il personaggio oddio aspetta aspetta te lo dico te lo dico subito aspetta un secondo vabbè comunque ho capito chi è più che altro non mi ricordo come si chiama il finto rapper nero del meme perché ci sono i filmati più che altro se cercate Sykes that's the wrong number si esatto but I'm not a rapper tornando al discorso di prima sono contento perché almeno sembra che questa divisione di tag this match super hot fire eccolo qua si chiama così super hot fire il tizio delle finte battaglie finte battaglie rap possa come dire possa risollevarsi un pochettino almeno guadagnare qualche team si si ok abbiamo passato niente ad avere comunque quelli che avevamo prima più adesso che arriveranno i budging brothers si poi adesso che appunto Syrus come si chiama se poi adesso con sta cagata qui di Stranger Fights come cavolo si chiama no vabbè una settimana Stranger Things prima era Twin Peaks poi c'era Pulp Fiction c'era un po' di tutto più che altro sono i Fashion Fights i Fashion Fights esatto esatto i Fashion Fights se anche gli Ascension risalgono un po' in auge con queste cose si no volevo tornare più che altro a Raw volevo tornare più che altro a Raw perché dobbiamo parlare più che altro di questa cosa purtroppo ci tocca Trick or Treat Street Fight tra aspetta che metto aspetta che ti metto no sei già in diffusione niente come non detto Trick or Treat Street Fight più che altro è necessario eh si esatto Eric vorrei dirti che ho già avuto abbastanza disgrazie questa settimana sì 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 però oh ma perché perché sono dei Babbi Natale ad Halloween ascolta ascolta guarda la mia maglia eh non la vediamo aspetta ok eccola ma la vediamo è una festa pagana lascia stare è Natale qui ma mancano due mesi a Natale non fa Marta e Ikea non siamo due mesi a Natale sono già hanno aperto guarda nell'ipercop di Casale Monferrato hanno aperto il Temporary Store vendono già le robe di Natale siamo al 2 novembre ma non è Ikea questa sì lo so però Ikea più che altro perché sono tra i primi a vendere già le robe di Natale più che altro c'è una cosa positiva di questo vero che vengono già i Pandoro ah c'è una cosa positiva di questa ma i Pandorini mi sa che li mettono tutto l'anno ormai no i Pandori no i Pandori dopo gennaio finiscono la grande amante di Pandoro ti posso dire che purtroppo no sì il 7 di gennaio non c'è già più un Pandoro con Melzer allora diceva vabbè match orripilante Dave Melzer l'ha chiamato il peggior match dell'anno e non credo di essere in disaccordo con lui comunque vi devo dire una cosa io da fine avanti ho iniziato a schippare parecchi match durante le puntate quasi tutti quasi tutti a parte ora l'unico match il mio problema il mio problema il mio problema è che purtroppo io sono stronzo e quindi Ro l'ho visto in diretta questa settimana quindi non potevo schipparlo sfortunatamente no no io siccome ho iniziato a dormire la notte perché è tanto bello dormire lo guardo il giorno dopo solitamente la mattina e schippo tutti i match a parte i segmenti perché so che bene o male il match non non mi entusiasma ma qui guarda onestamente dico che sei schippato questo match e hai fatto bene no quello non l'ho schippato il problema è quello è stato l'unico match della puntata che non l'ho schippato perché lo volevo vedere Marta fossi in te mi auto manderei in bagno da sola sì bravo sono d'accordo sono pienamente d'accordo con Moreno per una volta allora tornando a noi cosa cosa abbiamo cosa abbiamo cosa abbiamo più che altro da rock che non abbiamo ancora vabbè jason jordan che spacca la chitarra giustamente anche peraltro turn face no peponzi è un fake questo del tuo pay per view inglese a glasgow l'ho già visto prima è un fake più che altro la notizia non è 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 vera sta cosa WB intervallo secondo te possono chiamare un pay per view WB intervallo mamma mia vabbè andiamo avanti vabbè tornando a noi più più che altro il ritorno il ritorno più importante è quello di stroman che non ne abbiamo ancora parlato allora analizziamo un attimo la storyline allora tralasciamo il fatto tralasciamo il fatto che diciamo tralasciamo il fatto che il camion da dove è uscito praticamente come posso dire il camion da dove è uscito stroman non era quello diciamo dove era entrato sostanzialmente eric questa invece è una tua non comprensione della storyline no no la storyline cioè il discorso è questo stroman ma stroman cioè noi dovremmo credere che stroman è rimasto per otto giorni all'interno di un all'interno di diciamo di un camion dell'immondizia ma soprattutto visto che visto che il camion allora se il camion era diverso no dobbiamo supporre che stroman sia balzato di camion in camion fino a trovare un camion dell'immondizia nel quale si è messo dentro per arrivare all'arena alle 11 di sera dell'altra sera durante la putata di Raw guarda caso davanti a una macchina dove c'erano The Miz e gli altri due e soprattutto e soprattutto e soprattutto The Miz torna negli spogliatoi degli spogliatoi più che altro e trova dell'immondizia immediatamente giunge la conclusione che Braun Strowman deve essere nell'arena perché? qual è il giro qual è il giro diciamo logico che lo porta a dire cazzo se Braun Strowman solo perché ha trovato dell'immondizia all'interno dello spogliatoio sul fatto di Strowman sul fatto di The Miz che pensa di aver trovato che ci sia Strowman non so darti un perché sul fatto di Strowman che esce da un nuovo camion dell'immondizia ti dico una sola cosa la vita è come un labirinto sai dove entri ma non sai dove esci esattamente so però dove devi andare in bagno andiamo avanti vai Moreno vabbè io penso che fosse una citazione sai quei classici film come so cosa hai fatto la scorsa estate eh sì qualcosa no non era una citazione l'ho creata io di mio pugno ma non sto parlando di te sto parlando di Strowman di Strowman sì vabbè uguale questa volta io ti paragono un film horror sì più o meno beh oddio contando l'abbigliamento di questa serie effettivamente direi che l'abbigliamento film horror può essere assolutamente giustificato però vabbè andiamo avanti che è meglio no vabbè di cosa stavamo parlando vabbè comunque vi devo poi mandare vediamo se riesco a mandarlo in onda più che altro questo abbiamo una domanda di Quozzo però che ci chiede cosa abbia mangiato Strowman per otto giorni nel camion esatto esattamente come scusa gli americani cosa non gettano sì beh non so se ci fosse roba buona più che altro ma c'è il fine però effettivamente effettivamente vai vai un gatto morto oggi si mangia più umido ma non credo che gli americani gettino diciamo dei diciamo dei come posso dire dei gatti morti più che altro ma scusa Eric tu non hai vista la puntata di Futurama in cui Bender getta nelle fogne qualsiasi cosa no vabbè getta mordicchio è un altro discorso però abbi pazienza no no che gettava anche il cadavere della orca di Free Willy no volevo più che altro vedere se riuscivo a mandare in onda questo segmento più che altro perché è un segmento che merita secondo me la diciamo la nostra analisi o meglio merita più che altro no non riesco a mandarlo forse sì vediamo un po' vediamo se riesco a mandarlo più no non riesco a mandarlo più che altro perché è messo è messo abbastanza male più che altro no non è qui non è questo che voglio non è questo che voglio che voglio mandare sfortunatamente Moreno una domanda in intanto preparo il segmento scusatemi quanto è imprecato quando hai visto l'immagine di Braun Strowman che esce dal camion della spazzatura perché io penso da te da regista o da sceneggiatore tu abbia imprecato in 700.000 lingue no non credo io non so non credo che abbia imprecato più che altro vabbè è chiaro che è un segmento girato è anche proposto diciamo è girato col telefonino in modo ridicolo no non è girato col telefonino è girato in modo ridicolo più che altro perché ci sono è un segmento totalmente non credibile dal punto di vista della realtà però se ti metti in testa che la WWE ha fatto uno dei suoi classici mini film più che altro lo accetti anche diciamo a un certo punto aspetta come dire è un raccordo che non c'è purtroppo le vedi adesso per adesso per dirla una la vedi nei film in Thor Ragnarok ne vedi almeno 10 di cose del genere che ci sono raccordi mancanti a un certo punto ti ci abitui ma no sì lì più che altro era palese che comunque fosse un segmento registrato in precedenza e allora abbiamo c'è stato c'è stato questo più che altro c'è stato questi stacchi diciamo di telecamera abbastanza abbastanza se vogliamo anche ridicolo ho trovato più che altro quello che volevo mostrarvi eccolo qua possiamo credo ripartire un attimo con l'audio ecco qua e la cosa poi prosegue è tutto è tutto il segmento più che altro diciamo che si adatta si adatta perfettamente a quello che è successo a quello che è successo lunedì nel segmento di Raw più che altro questa questa colonna sonora alla fin fine direi no non ho mai pensato a sentire Ben Neill sopra questa cosa ma ci sta ma ci sta da Dio forse è quello che ci sta non riesco a immaginarmi la senza ci sta perfettamente più che altro c'è anche c'è anche il segmento di Bronstrom quando mena Reigns con questo sottofondo forse si è andata anche di più pensandoci vabbè no Smackdown allora Smackdown allora è passato bene non è successo una mazza più che altro a Smackdown a livello di story danni interessanti non è successo una mazza più che altro anche la puntata di Halloween quindi diciamo che non mi sorprende da quel punto di vista ha volato parecchio basso Rude ha battuto Ziggler in un 2-8-3-Falls match ponendo se gli vuole fino alla faida poi abbiamo continuo la faida tra Baron Corbin e Sinkara ci si è chiesti perché Sinkara abbia questo stia avendo questo push ha rinnovato il contratto quindi vogliono puntare su di lui effettivamente ogni tanto un push per una superstar latino-americana lo fanno a Smackdown c'è solo Sinkara in questo momento quindi diciamo che il sorteggione lo ha aiutato da quel punto di vista è andata bene esatto esattamente buon match anche peccato che stai ricevendo il push adesso che c'ha l'attare più brutto della sua carriera sì decisamente no vabbè scusa abbi pazienza c'è c'è una tarpeggiore di Sinkara aspetta più brutto ancora aspetta un secondo che vado che vado che vado a riprenderlo che che era 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 una roba era una roba inguardabile aspetta un secondo era forse questo no non è questo cioè Sinkara aveva usato un ring attire in una puntata di Smackdown praticamente ed era era praticamente un costume tipo integrale ed era bruttissimo adesso lo devo sapere se qualcuno trova l'immagine datemela perché perché non mi ricordo se era quello se era quello con i fulmini l'avevo indossato tipo in un paio un paio di occasioni però anzi no credo un'occasione e poi aveva avuto e poi aveva avuto praticamente aveva avuto praticamente delle diciamo delle mi dicono 21 maggio 21 maggio cosa no vabbè ah te la ricordi te la ricordi bene vabbè 21 maggio ma di quest'anno Smackdown mi avevo detto una cosa anche che era finisbo ciamenia che lui continuava ad aggiustare ah è un match con Ziegler mi dicono allora aspetta un secondo si incara Dolph Ziegler si incara Dolph Ziegler vediamo un pochettino se riesco a trovare il ring atta eccolo qua si grazie grazie a Travis Kid che me l'ha segnalato grazie a Travis Kid che me l'ha segnalato volevo eccolo qua guardalo qui guardalo qui adesso te lo metto in diffusione guarda che meraviglia guarda che roba che roba ti metto Moreno tu hai detto non hai visto peggiori no non è questo scusatemi non è questo qua no era no questa era la parte sbagliata più che altro è questo qui adesso te lo faccio te lo faccio vedere un secondo solo va che rubina va che abitino che aveva guarda che roba con la panza in bella mostra anche tra l'altro usato una volta e poi non ho mai più messo per ovvi motivi più che altro che il signore ci assista che non lo metta più allora esatto sembra una di quelle armature da giochi MMORPG no ma sembra 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 fatto col face paint più che altro con lo spray sta roba brutta come il culo tra l'altro Travis Kid dice memoria di ferro per le robe oscene eh direi sì direi di sì no comunque sì adesso stanno facendo questa cosa con la maschera non vedo l'ora che appunto lo tolgano e riesca fuori Roman Reigns no no non credo sai perché è evidente che è quello dopo il numero di Spear che abbiamo visto io di sera no non credo non credo proprio sai no vabbè è un modo è una faida che stanno portando avanti più che altro ne parlavamo oggi tra di noi la cara di Clash of Champions sembra abbastanza preoccupante tipo si in cara contro Baron Corbin vabbè e ci sta ascolto ma Aldo dovrebbe essere anche abbastanza abbastanza godibile però ci sono anche altri match che stanno costruendo per SmackDown abbastanza preoccupanti potenzialmente poi abbiamo poi abbiamo poi abbiamo cos'altro beh stella prossima avremmo scelto Benjamin dimmi Eric ecco cosa abbiamo ascoltato di Raw cosa Samoa Joe contro no contro la ne abbiamo parlato di Samoa Joe che ritorna no abbiamo soltanto detto che guardava male le tizie pensavo che pestasse Bailey ma non di niente si vabbè ma il match vabbè lui batte Apollo Crews il match è anche abbastanza normale tutto sommato ma scusa perché non parli adesso che si prospetta una faida con il status brand ma se li ha venati tutte e due che faida voi che facciano ma penso che sia già finita la faida esatto non è neanche mai iniziata probabilmente questa faida grazie a Dio aggiungerei anche ringraziamo l'altissimo signore lo stesso che non ci darà più si incara con quella attaiera di merda intanto stavo 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 leggendo più che altro su twitter visto che parlavamo prima del baseball alla fin fine che praticamente se avete detto che c'è Gar7 no e pare che una persona abbia appena pagato per due biglietti per avere la partita di questa sera 117 mila dollari quindi c'è un leggero interesse più che altro alla partita di questa sera ecco no giustamente ci fanno notare dobbiamo parlare purtroppo di Kane più che altro perché sta distruggendo l'intero roster fin fine push di Kane nel 2017 sta distruggendo Finn Balor sta distruggendo no sta distruggendo tutti più che altro lo shield al gran completo Daniel Bryan ma lui era già quasi distrutto di collo quindi c'era poco da fare Finn Balor l'ha presa due volte in due settimane di fila praticamente Dean Ambrose e Seth Rollins che le prendono consecutivamente uno dopo l'altro io non lo so cioè beh ragazzi perché state subendo adesso voi quello che ho subito io anni fa con Ryder adesso sapete come sento ma Ryder faceva cagare cioè non era Finn Balor ci dicono vai scusa Ryder all'epoca era più over di quanto saranno mai Dean Ambrose e Finn Balor messi insieme va in bagno va in bagno ci dicono ci dicono giustamente giustamente sui commenti di youtube quanto è bello è il 2001 invasioni che ha impusciato e gol contro Shane effettivamente sono d'accordo è una è una bella analogia effettivamente ma vabbè la nostalgia più che altro è che la nostalgia più che altro è che comunque funziona poi figuriamoci siamo per rest e media non escludo effettivamente neanche Angle Triple H a questo punto quindi la nostalgia funziona sempre in WWE o meglio cercano di farla funzionare sempre più che altro poi tornando a Smackdown più che altro comunque si Kane che distrugge tutti nel 2017 è un problema assolutamente è un problemone e basta direi Nakamura ha battuto Owens per schienamento buon match niente di clamoroso più che altro e basta direi il back suplex sul tavolo è la signatura ufficiale di Orton ormai si esatto si ecco un'altra cosa che stanno magari costruendo per Clash of Champions potrebbe essere Nakamura e Orton contro Owens e Zayn con Orton che poi dopo il match turno su Nakamura alla fin fine potrebbero anche costruire quello e basta direi altre cose da Smackdown non mi pare di avere anche perché la mezza trovo che sia inutile rivedere Randy Nakamura contro Sammy e vabbè fai vincere Zayn e Owens e poi Orton si incazza e attacca Nakamura va bene va bene allora mettete gli Stati Uniti con l'intercontinentale li cambieranno mai a livello di campioni beh probabilmente sì cammino di cammino per forza le cinture magari no dunque intendessero le cinture no le cinture non lo so le cinture dipende dipende io le lascerei così sono le uniche rimaste che ne pensate che ne pensate di quanto è successo Adam Blamp Pied che è quello di What Culture e avete visto un progetto di questo tutto beh lui in questo momento è fuori da quel progetto lì anche anche nuovo più che altro perché è una questione diciamo le accuse dei suoi confronti sono pesantine tutto sommato si parla di cosa è successo? eh praticamente si parla di molesti sessuali più che altro non fatte in modo virtuale attraverso twitter però comunque si parla di diciamo di foto richieste via twitter e cose similari sul progetto che doveva essere di cui doveva far parte con gli ex di What Culture lui è ovviamente fuori da questo progetto in questo momento Spike è diventato un nuovo canale digitale secondo voi fanno vedere la TNA su questo canale per ora no per ora no da quello che ci risulta più che altro io ho mandato un paio di mail all'ufficio stampa di Spike non mi hanno neanche risposto quindi non credo più che altro il fatto che comunque i programmi della TNA siano disponibili immediatamente sul Global Rest in Network mi fa pensare che almeno per il momento un accordo potenziale con l'Italia non ci sia tenete anche conto di una cosa non è automatico che se Spike TV in Inghilterra ha i diritti della TNA anche Spike TV in Italia li avrà prima o poi perché ovviamente le direzioni dei canali sono totalmente diverse la proprietà è la stessa anzi no in realtà non è la stessa perché comunque quella italiana è più diretta da Viacom mentre quella inglese è sì legata a Viacom ma è più gestita da Channel 5 tende che ha anche cambiato nome il canale l'altro l'altro ieri è diventato da Spike è diventato Five Spike quindi è molto legato a Channel 5 rispetto a Viacom diciamo al momento comunque non ci siano piani per TNA su Spike però ovviamente le cose possono cambiare in un amen vorrei fare l'abbonamento da David Aminetto secondo voi devo aspettare su Vivo Series e li faranno qualche offerta speciale le fanno più che altro ai vecchi abbonati non le fanno tanto per i nuovi abbonati per i nuovi abbonati c'è sempre un mese gratuito che comunque va bene i vecchi abbonati quelli che non sono più abbonati al network ogni tanto mandano spesso più che altro offerta per avere invece per riabbonarsi e avere tre mesi gratis cose di questo tipo io ne ho ricevute ne ho ricevute più che altro perché ho iscritto 3-4 mail al network più che altro quello discorso rispondo giusto un attimo a Vinnie Mac Ambrose nel 2014 post-piste dello CD era più over di quanto si è stato Ryder ma quando mai c'è Ryder lo inneggiavano i canti quando c'era The Rock sul ring ragazzi guardatevi questo Ryder a livello di over in quel periodo era molto over nel periodo in cui poi lo smisero di pusharlo perché guai uno che va over senza che da venne vi voglia e il resto ragazzi siamo nel adesso Ryder quando è che la gente ha smesso di comunque reagire a lui quando entrava nel 2016 sono passati praticamente 5 anni da quel momento è già una testimonianza di quanto over fosse con l'uomo esatto però dopo l'hanno ucciso dopo l'hanno assolutamente ucciso adesso ormai non c'è non c'è più nulla a fare aspetta 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 vai si spera nel Velvet in Dream adesso vabbè non credo che arriverà così over più che altro ne lo so però Strom il campione intercontinentale sarebbe cioè lo meriterebbe il titolo perché penso si è stato dovresti più soprenente nel 2017 anche perché da parecchio tempo che non c'è un Big Bang per il dito dei minori beh c'è Roman Reigns l'anno scorso io farei Hawkins contro Rans per vedere chi di due brand ha il jobber migliore o il Drifter contro Ingris per vedere chi è l'artista migliore no né uno né l'altro grazie che farà Undertaker a gennaio a row parizione speciale per la puntata del 25esimo anniversario poi vediamo spero spero che non sia per annunciare un'etro ah vediamo 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 spero spero di talento che invece in altre federazioni potrebbe far bene ah Luke Harper effettivamente potrebbe far bene ovunque Luke Harper Gallus Anderson beh Gallus Anderson ha anche un po' fine carriera va detto questo va detto che Gallus Anderson se mai dovessero lasciare la WB comunque in tre secondi tornano a New Japan rientrano nel Bullet Club figurati però parliamo di atleti abbastanza già avanti con gli anni tutto sommato perché Gallus Luke Gallus credo che vadano entrambi per la quarantina o sbaglio fammi controllare un secondo allora Gallus no Gallus ne ha 34 anzi ne avrà 34 lo dicevo lo davo più vecchio Anderson mi sa che è più avanti con gli anni ragazzi Rusev 37 è Rusev è 37 sì infatti sì sono un po' più giovani di quanto pensassi Rusev Erik sì sicuramente è Rusev però beh sì però la gimmick dello straniero funziona sempre effettivamente nel mondo del wrestling quello sì quello sì poi chi è ancora chi sono gli atleti delle altre federazioni che sarebbero potenzialmente delle superstar in WWE magari già pronti per debuttare nel Mare Rosa come full per registrare vabbè i nomi sono sempre quelli Okada Omega Ken Omega soprattutto Pentagon Junior è una gimmick un po' particolare ma secondo me potrebbe fare molto bene in WWE anche se ha l'handicap della lingua però secondo me potrebbe fare molto bene Ricochet dopo un periodo NXT potrebbe fare beh Ricochet prima di andare in NXT pronti dalle altre compagnie chi potrei dire Tanashi è l'handicap della lingua Okada ha già una buona conoscenza dell'inglese però è anche vero che comunque è un giapponese più che altri giapponesi raramente li pushano in WWE a parte Nakamura che comunque lo stanno pushando anche se non sta molto funzionando il problema dal giappone posso dire sicuramente che è New Mega che è New Mega sicuramente se viene in WWE è già pronto per il main rossa è già pronto anche per il main event parossalmente se viene in WWE secondo me prima o poi un giro solo perché comunque sono anni che si continua a dire ma lui non accetta ancora che fine ha fatto il progetto che avevate per i consigli delle robe da recuperare sul network allora premettendo che in questo momento è un po' tutto bloccato per una serie di motivi più che altro se la cosa vorremmo farla andare in porto ben volentieri se c'è interesse più che altro su queste cose in questo momento è un po' tutto bloccato comunque più che altro a livello tecnico più che altro per diversi motivi che poi forse riusciremo a rivelare più che altro però in questo momento la questione progetti secondari per quanto riguarda il canale video di youtube sono un attimo bloccato comunque vedremo vedremo il che non vi impedisce di inviarci proposte per qualche anzi 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 se avete delle idee su cose che potrebbero interessarvi che noi diciamo che noi potremmo fare assolutamente siamo totalmente a disposizione ecco però giusto con qualche inventazione tipo se chiedete a Mattia di fare uno show dove commenta i match di Mal quello no quello no quello no per la roba per la roba trash mandate tutto all'angolo esattamente sono Fabio Cantoni da Bologna venerdì ci vedremo se avrete voglia al tour assolutamente noi siamo a Milano anzi quasi siamo tutti a Milano probabilmente noi che andiamo a vedere il tour vorrei chiedervi quali siano i tempi di consegne di Prestintese oggi mi è venuto in mente di ordinare un paio di magliette sul sito e di mettermi una a Milano credo di essere fuori tempo massimo mi sa di sì credo che siano due o tre settimane almeno le consegne da Prestintese mi sa che mi sa che sei fuori fatto ritorno sul trono sua maestà la regina viratrice how my boss aspetta che metto ancora il logo della rubrica di Stefani vediamo un po' se riesco a trovarlo eccolo qua era questo il logo della telenovela più che altro poi abbiamo mi spiegate la storia di Trish che si spoglia bacia Vince e il ritorno di Shane che si spoglia ma se era quello dello spogliatoio era una parodia di una parodia di un segmento di una pubblicità del mondo nel football che vedeva coinvolta Nicolette Sheridan che era in quel periodo attrice attrice praticamente a Desperate Housewives ed era un segmento con Terrell Owens se non ricordo male o comunque con un giocatore di colore che aveva fatto molte polemiche in America per diciamo nudità che poi comunque non si erano viste era una parodia di quel segmento molto semplicemente c'era anche Shelton Benjamin tra l'altro nella parodia di WWE poi aspetta aspetta vi seguo da tempo e rimanete saldamente nella mia trasmissione radio preferita mi spiace no scherzo no grazie mille sopra anche la Zanzara no vabbè Zanzara è su è su un altro piano è su un altro piano noi non siamo lontanamente vicino vi propongo un'idea che potete tranquillamente scattare si potrebbe pubblicare il caffè 24 ore prima tra sabato e domenica beh lo facciamo già durante il pay per view secondo me sarebbe molto più comodo visto che spesso dura molto avremo un giorno in più per ascoltarlo oltretutto ci sarebbe meno scatto tra registrazione e pubblicazione quindi anche meno notizie e rumor nel mezzo più che altro è per un motivo semplice di schedulazione delle cose sul sito più che altro di solito abbiamo caffè la domenica e poi il giorno prima c'è il WB Planet se usciamo dovremmo cambiare più che altro la turnazione di un po' di rubrica alla fin fine però ci si può pensare più che altro ci si può assolutamente pensare più che altro è anche più comodo per noi d'estate registrare la domenica e non magari il sabato alla fin fine comunque ci possiamo pensare eventualmente poi in seguito perché i seguenti riguardanti Strowman e Bexy sono sempre molto trash beh lui ormai è un cartone animato l'abbiamo detto prima ormai è ufficialmente un cartone animato dopo aver visto Kane battere il mio verso preferito nella puntata di ieri ho deciso di come dottor di noi di boicottare tanto lo guardate voi mi dispiace per noi mi sa che lo guardiamo noi per voi potrebbe diventare un nuovo trending topic su Twitter amico ci ho campato 5 anni con questo modo eh lo so come mai il ring of honor come mai il ring of honor non hanno la categoria femminile no errore ce l'hanno si chiama women of honor non la mettono tanto in mostra negli show televisivi o anche nei pay per view però c'è non hanno una cintura quello si si sta parlando di inserire una cintura più che altro va detto che la divisione femminile della ring of honor a livello qualitativo non è di altissimo livello rappresentato più che altro quello che altre compagnie ci hanno dato come la WWE la TNA e WWE tra presso NXT diciamo che il livello il livello ring of honor non è dei più alti dal punto di vista dell'ottato per quanto riguarda le donne però da un po' di tempo a questa parte stanno un pochettino puntandoci sulle donne c'è appunto questa categoria si chiama women of honor ripeto non è di altissimo livello però comunque i match femminili li fanno nei taping e anche e anche anche su youtube credo che mettono sempre i match della women of honor nel canale canale ufficiale del ring of honor non mi sembra che far ripetere le catchphrase troppe volte rendeva essere ridicolo per dire cortengo con il suo it's true it's damn true ripetuto dieci volte a puntata sembra un lettore cd col disco inceppato beh la catchphrase è appunto il tormentone che comunque si ricorda e la frase che si ricorda di Angle è quella quindi ci può anche stare dai che la ripeto tante volte The Rock rimetteva le catchphrase 50 volte a puntata ok è The Rock però lo facciamo quindi vuoi dire che ormai la catchphrase di Rusev è quella parola lì scusami la catchphrase di Rusev diventerà eleted esatto sì ci sono notizie su Neville no purtroppo no è tutto tutto fermo pare sia fuori dalla compagnia però finchè non arrivano comunicati ufficiali dalla WWE ovviamente la cosa non si non si schioda più che altro di Impact secondo voi chi è adatto è pronto ad andare in WWE devo rivedermi la rostra più che altro di Impact allora chi c'è e beh Storm potrebbe andare bene ma ha preferito andare in TNA perché comunque gli hanno fatto una buona offerta economica beh Johnny 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 Impact ovviamente che ha fatto molto bene e credo che comunque lui un giretto in WWE prima o poi se lo tornerà anche a fare va detto questo chi altro chi altro ma in WWE si chiamerà Johnny no John Morris John Morris molto semplicemente Bobby Lashley Bobby Lashley è uno che mi piacerebbe rivedere in WWE Bobby Lashley contro Brock Lester mi piacerebbe vederlo perché comunque Lashley è uno che è uno che negli ultimi anni in TNA è cresciuto veramente tanto è diventato un personaggio molto molto più interessante di quanto fosse prima altri stavo pensando stavo guardando più che altro il roster alla fine fine Rosemary si Rosemary però è al guaio della gimmick però è una gimmick che come fai a proporre in WWE lo vedi già a Impact in TNA in The Face è una gimmick che secondo me non funziona cioè è over è over però lei questo gimmick qua deve essere da Hill più che altro non The Face Erik ti dico subito in cosa ti proponi Sister Abigail ok puoi fare volendo così ma secondo me Sister Abigail deve rimanere tutta entità che esiste non esiste ci dicono brainwagon perde il mistico ci dico in chat Eli Drake Eli Drake c'è solo un problema è stato in WWE per dieci anni e l'ha tagliato perché Eli Drake era Gavin Spears e in oh no aspetta era lui era Sean Ricker ed era in in WWE era no Sean Ricker molto semplicemente e Gavin Spears era cosa era Ty Dillinger e lui è stato in WWE al 2006 al 2008 e dal 2013 al 2014 praticamente con con NXT alla fin fine cioè con il terzo sviluppo prima in Florida OVW e poi OVW FCW e poi NXT e l'ha tagliato l'ha tagliato perché evidentemente non puntavano su di lui poi vabbè poi parlo di gusti personali a me non piace Eli Drake dico la verità mi sa di un The Rock dei poveri più che altro quando parlo nel senso che imita palesemente quello stile lì per carità se c'è da imitare qualcuno è meglio imitare meglio imitare il migliore per l'amor di Dio però mi dà l'idea che lì è questione di gusti personali non mi piace personalmente non mi piace non so se lo vedrei bene in WWE poi ripeto in WWE lui c'è già stato e l'ha tagliato quindi non so se abbiano voglia poi di ripenso però abbiamo visto cose anche più strane nella storia nella storia praticamente del wrestling molto semplicemente poi vediamo un po' vediamo un po' cosa ci è arrivato dalle fanpage perché ci è arrivato qualcosa anche dalle fanpage eccoci qua allora secondo voi il wrestling come Matt Riddle Brian Cage Keith Lee Jeff Cobb e Michael Higgins stanno ridefinendo l'immagine dell'heavyweight in un circuito dipendente composto per la maggior parte del cruiserweight e come assolutamente specialmente Jeff Cobb Jeff Cobb Jeff Cobb diciamo è uno di quei wrestler che deve credo tutto a Lucio Underground che è anche paradossale più che altro perché lui come Jeff Cobb ha come Jeff Cobb ha come si chiama a Lucio Underground non si è mai visto lui è matanza a Lucio Underground però io adesso sappiamo che è Jeff Cobb e in giro per le indie lui è Jeff Cobb e fa le cose che fa matanza a Lucio Underground però si sta creando anche un seguito e stanno scoprendo comunque tutti la sua bravura Brian Love dice tagliarono pure Omega no Omega mi sa che se ne andò lui più che altro cioè fu tagliato ma se ne andò lui più che altro in Giappone alla fin fine per migliorare se ne andò lui cioè ha detto se ne andò lui più che altro più che fu tagliato è stata diciamo una recissione consensuale più che altro alla fin fine lo spiega molto bene nell'intervista con Edge Christian che appunto lui era sempre più frustrato frustrato perché diciamo la WWE ti impone uno stile e lui questo stile non gli piaceva cioè non lo sentiva suo e allora lui ha una visione del wrestling molto come un'arte certo e lui un artista che è che è costretto è un pessimo artista e allora per questo che appunto quando quando potè decise di andarsi appunto in New Japan ma un altro per fare un nome un altro che comunque ha deciso di fare questa strada qua è Julius Robinson Julius Robinson si è fatto praticamente ha detto sentite non avete piani per me come a NXT fatevi andar via vado in Giappone per migliorare e lui effettivamente è migliorato tantissimo in New Japan lui è migliorato tantissimo in New Japan e non sarei subito se poi tornassi in WWE prima o poi ma poi anche altri è un caso diverso però comunque Drew McIntyre Drew Galloway fu licenziato dalla WWE si è girato un po' le indie in tutto il mondo ha fatto TNA è trovato in Scozia l'ICW ha fatto talmente bene poi è tornato e adesso è campione a NXT quindi comunque sono poi più che altro in questo momento è vero che uno su mille c'è da fare però essere licenziati dalla WWE non può essere non così un male perché comunque la scena indie non è assolutamente messa male puoi anche fare dei bei soldi chiaro non fai i soldi che fai in WWE però comunque puoi girarti le indie puoi comunque fare fare ottime cose quindi non è la fine di tutto il licenziamento della WWE chiaro che tutti cercano di andare in WWE per un motivo molto semplice perché girano più soldi in WWE rispetto alle altre compagnie anche rispetto a una compagnia come la New Japan che comunque non è messa male dal punto di vista economico però anche nelle indie la dimostrazione sono i Bullet Club la dimostrazione è Cody e anche altri comunque si possono fare ci si può vivere anche abbastanza abbastanza bene le indie sono talmente affamati di nomi grossi che se c'è un ex WWE sicuro non gli fanno fare lo squash uno squash da 30 secondi inizio match esatto poi dicono giustamente anche Zilla in versione Spirit Squadra è stato mandato via non fu licenziato lui no lui rimase no lui tornò in OVW non fu licenziato poi fece un periodo in FCW e poi fu portato su licenziarono altri della Spirit Squad licenziarono licenziarono tutti tranne Jiggler e Dijkstra no Dijkstra poi fu fu lasciato nel main roster però non fu poi non fu poi diciamo fu licenziato fu licenziato nel nel 2000 e aspetta eh fu licenziato nel 2007 allora Mitch fu licenziato nel 2007 Johnny Johnny della Spirit Squad fu licenziato nel 2008 Mikey a giugno 2008 Kenny 10 novembre 2008 e poi nel settembre 2008 Nicky cominciò Nicky ovvero Ziggler cominciò a lottare come Dol Ziggler ma comunque gli altri poi non hanno più avuto questa grande visibilità no infatti Kenny Dijkstra c'erano c'erano grandi piani per lui però ha avuto diciamo la carriera poi sua non ha perché lui aveva 19 anni quando cominciarono a pusharlo e poi alla fin fine non funzionò più che altro per un motivo o per l'altro solo io sto notando che a Smackdown al contrario di Raw stanno mandando comunque avanti alcune faide ma anche Raw stanno mandando avanti alcune faide lunedì hanno portato avanti alcune faide per quanto riguarda sì però io penso che Raw le mandino avanti male rispetto a Smackdown sì quello sì nonostante a questo mese si è dedicato interamente a Survivor Series mi spiegate questo push si incarna nulla pare che abbia rinnovato il contratto per diversi anni e sta avendo questo push per diversi motivi e pare che abbia anche un accordo per le scarpe mi sembra con Foot Locker o qualcosa del genere deve uscire qualcosa da Foot Locker con roba sua praticamente e quindi deve sfruttare la cosa con la sempre più crescente attesa per Pantamania vi faccio The Phantom Resting Ruse la settimana prossima sconfigge AJ Styles diventa l'ultimo membro del team Styles sconfigge Mahal e diventa campione così se proprio ci sarebbe un champion versus champion di gran lunga più interessante di questo attuale c'è solo un problema a quel punto cosa fai con Styles cioè fai vincere l'Ezar comunque cioè è meglio che fai vincere l'Ezar con Mahal più che altro il match lo vincerebbe l'Ezar naturalmente martedì successivo Mahal approfitterà di uno Styles ancora acciaccato dal match per diventare la seconda volta WWE Champion come presumibilmente pubblicizzato nel tour indiano no non credo che sia quello il piano più che altro Styles poi lo vedo l'abbiamo detto prima Styles dovrebbe far parte del 5 contro 5 la fin fine perché secondo me la WWE ha fatto andare gente come Yard e Mickie James sempre stati da D-Boys e poi li trattano da Jobber praticamente ogni settimana con avversari tra l'altro abbastanza mediocchi perché sono avanti con gli anni cioè gli Hardis a parte che gli altri non li hanno fatti tornare da Jobber gli altri hanno fatto l'incertitolo Wrestlemania ma sono tornati non sono tornati minimamente da Jobber più che altro sono più che altro adesso Jobber perché comunque ci sono i veterani che devono comunque mandare a voler i giovani ci sta anche aiutano i giovani ad andare avanti certo Mickie James è la veterana che fa aiuta in questo caso all'ex abis che poi Mickie James ha 35 anni si non è vecchia ha 35 anni più che altro no ne ha di più di 35 no no guarda che ne ha te lo dico subito Mickie James ne ha non è vecchia guarda che non è vecchia lei Mickie James è del ah no 38 ne ha si 38 38 vabbè non è vecchia comunque è una 38enne che sta meglio di molte giovani che hanno lì tra una compagnia sicuramente sta meglio di me tra Mickie James e Dana Brooke io scelgo Mickie James tutta la vita contando anche il modo in cui si è rimessa a nuovo dopo il parto però Dana Brooke corre bene come abbiamo visto nei meme della settimana scorsa possibile qualche promozione da NXT nel main roster per il post series post series difficile al massimo gli Othros of Pain come nome però sembra difficile effettivamente sembra difficile forse dopo la Rumble ecco si dopo la Rumble effettivamente già decisamente più possibile poi abbiamo vai ormai ormai si leggono big four cioè si si scrivono big four si leggono meno importanti di Money in the Bank ormai io ho sempre pensato che infatti Money in the Bank dovesse essere il nuovo big four perché che cazzo c'è sta a fare da series a questo punto no in realtà Anderson l'ha fatto già da un pari mesi quindi è una cosa che è girata ieri come rumor ma pare non sia vera come cosa mi parlate della situazione aspetta Balor Wyatt Cain tutti i personaggi legati al mondo del paranormale o sovranaturale come sono gestiti secondo voi questi brezzi soprattutto i primi due si sono personaggi beh Balor non è molto legato al sovranaturale Balor è semplicemente colui che tira fuori questo questo personaggio del demone quando deve fare quel salto più che altro il problema vero esatto il problema più che altro è che Balor viene dipinto come una pippa quando non è un demone e quando è un demone viene dipinto come un fenomeno quindi il problema è quello è la stessa cosa di Patamon e Angemon vabbè lascia stare brava lascia stare brava no sono gestiti cioè si personaggi soprannaturali nel 2017 teoricamente non dovrebbero diciamo non dovrebbero fare non dovrebbero avere diciamo non dovrebbero avere posto diciamo che secondo me proprio va benissimo che poi dipende dal contesto perché comunque il Lucio Underground i concetti soprannaturali comunque ci stanno e sono lì perché è uno show talmente assurdo talmente assurdo che comunque vai ma Lucio Underground è visto proprio come un telefilm una serie tv si infatti ma ci sta infatti nel Lucio Underground ci sta che comunque ci stiano anche personaggi un po' strani infatti la WWE te la vendono proprio come un sport quindi è più è inutile mettere le cose sovrannaturali io non sono totalmente d'accordo nel senso puoi esserlo non è legge capisco quanto dite più che altro perché la WWE specie con chi è l'ultimo grande esempio Wyatt che doveva essere il cattivo dei film horror moderni il problema è che Wyatt come abbiamo già detto lui vive di pretesti cioè non c'è un filologico con Wyatt no anzi Wyatt è un pretesto esatto poi se mi devi trattare il sovrannaturale con due fulmini che escono da due pareti basta basta te che direi basta ner te che dal mio punto di vista evitiamo se non vuoi trattare con come si chiama con la no cos'era l'house of horror ecco brava ok no no Itacarta può essere atto la WWE si però più che altro c'è un problema è una gimmick come fai a portarle in WWE devi cambiare per forza il nome e cosa fai Ethan McMahon terzo cioè è un po' difficile che portare un personaggio del genere in WWE più che altro vabbè comunque avrebbe sempre qualcosa di più rispetto agli altri ma ok si però però diciamo è cresciuto da quando è nato il personaggio del ricco nipote di Dixie Carter adesso adesso portarle in WWE è già un pochettino più difficile quel personaggio lì ma scusa adesso che è è Impact però la compagnia non è più di Dixie Carter perché lui è comunque Impact perché c'entra cioè lui è ancora comunque nella compagnia giusto perché non c'è più la zia non è che all'improvviso non deve più far parte della compagnia vabbè torniamo chiudiamo direi anche perché mezzanotte 53 grazie a Moreno Bernasconi grazie a tutti ci si vede nel caso passate da Luca dalle fosse di Mattia mi troverete lì esatto grazie a Marta Paolino lo stesso anch'io sarò a Luca e se volete un autografo porto la pena però non lo vorrete quindi non la porto io invece non sarò non sarò a Luca perché esattamente dei comics non è che me ne freghi poi molto ci sentiamo nella notte tra domenica e lunedì con Rest in Caffè domenica avremo poi anche le partite 20.40 Sassuolo Mila 23 Pallonari e poi settimana prossima martedì prossimo alle ore 22 l'appuntamento con il post mondo network visto che sarà settimana con orari normali visto che non c'è il non c'è il calcio vi lasciamo con la sigla finale il paladino del web dedicata dedicata come sempre al paladino che comunque anche se questa sera non è stato con noi è comunque presente in questo in questo orribile programma grazie per averci ascoltato l'appuntamento come detto e a domenica nella notte domenica come dicono nuovo episodio di Rest in Caffè buonanotte alla prossima Sia Signore e signori ragazzi e ragazze ladies and gentlemen benvenuti il paladino ha vinto la prima caduta siamo vicini guarda in alto lo sai chi c'è c'è un paladino che combatte per te vince ormai la sua legge su web anche se nessuno ti spiega il perché tutti ne dubitano ma alla fine si ricredono salva il bambino dalle sue grimpie che altrimenti saranno guai affrontami affrontami non chiede di meglio il GP sente il dovere di sconfiggere tutti quelli che non credono in lui alza il tuo sguardo e scruta il cielo dalle nubi scorgi il suo dominio sul wrestling web ecco che la fine si avvicina il suo sacrificio non rimaravano no paladino il paladino si aggiudica questo free stage di sovelle e vendica l'under taker l'under taker le dirette diventano appassionanti quando gli fa incazzare tutti quanti ti credono pazzo solo perché a volte sbacchi il mazzo ecco che giunge una vision di un futuro che luce mai vedrà tenti di predicare mortali quando neanche tu sai cosa dire controllami controllami ma cosa sto vedendo da qui indiani giapponesi alternativi al sistema che da sempre dipendo alza il tuo sguardo e scruta il cielo dalle nubi scorgi il suo dominio sul wrestling web ecco che la fine si avvicina il suo sacrificio non rimane a bano no che schifo questa compagnia e questa canzone non mi rappresentano ten ten fa anche contro tryer e ricordate chi è contro di me è contro se stesso questo programma è stato offerto da se hai un frigo che non funziona ti prego non rischiare vieni da noi a farlo cambiare da specialisti con rapidità frigoriferi da incasso forni da incasso piani di cottura e lavelli di tutti i colori lavastoviglie da incasso FBA di Bruno corso potenza 183 Torino se hai un frigo che non funziona vieni da noi a farlo cambiare